Raul, innanzitutto, quali sono le tue condizioni fisiche? Ora io mi sento bene, sto anche iniziando a lavorare un po' già con la palla. Le mie sensazioni sono molto buone e spero farcela in questi giorni per essere convocato a Lecce. Qualcuno dice che Asenzio si porta dietro dalla passata stagione qualche problema alla cartilagine. Io ho avuto qualche problema alla cartilagine, ma questo non è il motivo per cui sono fermo. Perché comunque io ho fatto un ritiro col Genoa in cui non mi sono mai fermato. Ho fatto tutti gli allenamenti per un mese, ero arrivato in condizioni buonissime. Purtroppo ho sofferto questa cosa al flessore. Il flessore è questo che mi sta dando un po' di fastidio ora, ma come ho detto, penso che le mie sensazioni sono positive, quindi spero in questi giorni rientrare con il gruppo. Se non per la gara di Lecce, sicuramente per quella con il Cittadella. Sì, penso per quella Cittadella sicuro. Poi io spero anche quella di Lecce, ovvio che io vorrei rientrare il più presto possibile, però c'è anche da rispettare la parola del dottore e dei fisici che comunque non vogliono che rischio niente. Comunque io, come ho detto, penso che sto bene, penso che ce la posso fare anche per Lecce. Pescara ha tanto bisogno di Asensio, di Seterre. Queste prime partite, in pratica, non ci sono quasi stati attaccanti centrali. In campo si sono viste le conseguenze. Sì, questo purtroppo è stato sfortuna perché ci siamo fatti male tutti e due attaccanti, gli unici due attaccanti che ha la squadra. Ci sono fatti male nello stesso periodo, non è una cosa normale, però purtroppo è successo così. La squadra però può fare tante cose anche senza di noi, ma io penso che sarò al più presto disponibile per dare una mano perché comunque sono uno che non gli piace stare fermo, non gli piace vedere la squadra giocare dalla tv, soprattutto in un periodo così mi brucia tantissimo e per questo spero stare subito disponibile. Un'ultima curiosità, il tuo attaccante professionista di riferimento e il tuo idolo da bambino chi è? Io fin da piccolo anche per come ha iniziato lui è stato sempre Iura Imovic perché anche lui ha fatto arti marziali da piccolo come ho fatto io prima di iniziare a giocare a calcio ancora faccio e io mi guardo tanto in lui.